C'è quello che fare se il tuo imprenditore solo imprende i papi neri? Potrebbe imprendere la prima parte della pelle più scura perché il pallone di tonner non è capito di caricare sufficienti tonner. Iniziamo da quello che non è il problema. Non è un problema di fusione. Non è un problema di pallone di trasferimento. Non è il scannatore di laser. Un imprenditore con scannatore di laser imprende le piste. Il problema, probabilmente, è relato al cordone di corno o al pallone di charge o le connessioni tra il cartone e il imprenditore. Il pallone di charge primaria, o il cordone di corno, mette un'uniforme negativo DC-BS voltage sulla superficie di trame. Poi, il trame trova la superficie di trame, lasciando un'immagine elettrostatico e elettrostatico sul pallone che attraversa il tonner. Ma, se non c'è nessuna trame, il tonner è attraversato sulla superficie di trame. E avete una pagina nera. Cercate di tagliare il contatto del pallone di charge del cartone. lo che ottenete è una pagina nera. Cercate i contatti sul cartone e nel imprenditore. A volte, i contatti sono sbagliati dalla posizione. Cercate il pallone di charge e i supporti. Se il vostro imprenditore ha un cordone di corno, controlla se il cordone è bruciato. Se cambiare il cartone o la unità di trame, se il vostro imprenditore ha un cordone separato e un cartone di trame, non risolverà il problema, il problema potrebbe essere il pallone di potenza di potenza. Ricordate che un cordone di corno o un cartone di trame su un copier ti darà imprenditore. In questo caso, il problema potrebbe essere relato alla lampa di esposizione. A presto! A presto!